Trieste è la prossima tappa della Sirigas Scandone-Avellino. L'Alma quest'anno è tornata in massima serie e si sa che la palla a canestro in terra giuliana è di casa. Tanti nomi del basket sono legati a Trieste, Tanevic, De Paul, Pozzecco, Pecile ed anche Matteo Boniciolli, ben noto alle cronache locali. L'obiettivo del club di coach Dalmason è la salvezza, ma potrebbe arrivare sicuramente qualche cosa di più perché la squadra è stata costruita con grande qualità. Avellino, davanti al pubblico dell'Alliance Dome, dovrà giocare una partita accorta. L'obiettivo principale sarà gestire il ritmo partita, che non dovrà sfuggire, poi contenere le individualità. L'ex Daniele Cavaliero è il trascinatore emotivo, ma in campo ci sono due colponi come Chris Wright e Rvoje Peric. Il croato, nel recente passato, ha dato spesso fastidio alla Sirigas Avellino quando vestiva la maglia di Venezia. Da temere soprattutto Stroutings, l'ex Reggio Emilia sta giocando un campionato da protagonista, seppur sia molto giovane. La gara sarà certamente equilibrata, le seconde linee potrebbero fare la differenza, infatti le panchine a questo punto potrebbero essere un valore aggiunto. Interessante è anche la sfida tra i due allenatori, vincerà chi sbaglierà meno.